Ciao cari amici, evidentemente l'intervista di Tucker Carlson a presidente russo Vladimir Putin ha fatto i suoi utili frutti qua in occidente, soprattutto nell'ambito dell'informazione. Diciamo che si vedeva già prima questo cambio della linea narrativa, io ho parlato in qualche mio video precedente del fatto che diverse agenzie delle informazioni hanno già iniziato a dare un po' più attenzione alle notizie che arrivano dalla Russia, ci sono state alcune notizie nei quali per la prima volta in diversi anni le agenzie delle informazioni occidentali hanno iniziato a citare le agenzie delle informazioni ufficiali del Cremlino, come ad esempio RIA Novosti oppure TASS, una cosa mai vista prima e io sinceramente non pensavo che così presto dopo l'inizio dell'operazione militare speciale russa sul territorio dell'Ucraina, l'Occidente, l'informazione occidentale, le agenzie occidentali così in fretta cambieranno la loro linea. In effetti però è successo, probabilmente perché l'operazione militare speciale russa ha dimostrato le debolezze del sistema della Nato, perché la Nato non ha riuscito a ottenere nessuno degli obiettivi che ha messo di fronte alle autorità ucraine. In effetti, come noi sappiamo, in questa guerra i russi combattono con pochi uomini una capacità volutamente ridotta dal punto di vista di utilizzo anche dei mezzi, mentre in Ucraina sono stati investiti enorme quantità di denaro, dei mezzi e grandi sforzi dei paesi della Nato e l'Ucraina non ha riuscito a raggiungere nessuno dei obiettivi messi davanti alle sue autorità. In effetti Crimea non è stata conquistata, il territorio del Donbass, che è ormai incluso all'interno del territorio della federazione russa dal punto di vista giuridico, per i russi, questo ormai è la Russia, questo territorio non è stato riportato in Ucraina, la Russia non è stata sconfitta sul campo militare, ma soprattutto l'economia russa non è stata danneggiata dalle sanzioni economiche che hanno con maggiore evidenza danneggiato invece gli occidentali. In questa situazione drammatica ovviamente è chiaro che in Occidente qualcuno inizia a cambiare la linea narrativa perché è impossibile più mantenere una linea talmente distante dalla realtà oggettiva. L'intervista di Putin ha dato ancora più dinamica a questo ritorno verso la realtà oggettiva di alcune agenzie occidentali. Per quale motivo? Perché Putin per la prima volta in maniera molto pacata, molto preparata e anche autorevole ha spiegato quelli che sono le basi del pensiero russo, della posizione russa e se qualcuno ancora prima cercava di applicare questa formula veramente degradante, c'è aggressore e aggredito, Putin si è svegliato una mattina e ha deciso di invadere l'Ucraina, Putin è un pazzo, Putin ha iniziato la guerra perché si è ammalato di qualche malattia e per questo motivo il suo cervello elabora una sostanza chimica che lo rende pazzo e aggressivo. Tra l'altro io personalmente ho partecipato a diverse interviste, a diverse trasmissioni televisive in Italia, sulla tv italiana, in presenza dei medici che cercavano di spiegare e di riportare all'attenzione del pubblico italiano proprio questa variante degradante, cioè la guerra in Ucraina è dovuta alla malattia mentale del presidente della federazione russa Putin. ovviamente una cosa idiota perché chiunque bene o male conosce la situazione ucraina sa benissimo che tutto è iniziato molto prima, alcuni sostengono che tutto è iniziato nel 2014 con il colpo di Stato diretto dai nazisti, sostenuto dalle occidentali, che ha demolito il governo legittimo ucraino, ha completamente distrutto un sistema costituzionale e portato il paese verso una vera e propria guerra civile, io penso che in realtà tutto è iniziato molto prima, tutto è iniziato con la separazione dell'Ucraina dall'Unione Sovietica è una specie di inizio dell'influenza dei paesi occidentali nell'Ucraina, influenza soprattutto militare, ricordiamo che primi esercitazioni congiunte tra paesi della Nato e l'esercito ucraino sul territorio dell'Ucraina compresi anche le esercitazioni delle forze di mare, della flotta militare ucraina e di altri paesi della Nato sono avvenuti già nel 1998, tra l'altro quando Putin non era ancora presidente della Russia c'era ancora Yeltsin all'epoca e già se noi guardiamo questi primi esercitazioni militari tra Ucraina e la Nato che si chiamavano Tredente qualcosa, non mi ricordo adesso bene, comunque se voi guardate come sono svolti queste esercitazioni quali sono stati i scenari applicati in queste esercitazioni, voi scoprirete che tutti i scenari erano basati sulla guerra della Nato contro la Russia e l'Ucraina era un aliato della Nato e anche di seguito l'Ucraina ha partecipato alle missioni della Nato l'Ucraina diciamo non ufficialmente è stata usata dalla Nato già dagli anni 90 se noi pensiamo ad esempio dell'invasione degli Stati Uniti d'America nell'Iraq erano presenti anche gli ucraini in questa missione genocida in cui sono stati massacrati milioni di iracheni civili a questo massacro dei civili iracheni hanno partecipato anche i nazisti ucraini quindi Russia oggi sta combattendo non soltanto contro un regime che ha preso il controllo in Ucraina nel 2014 attraverso un colpo di Stato Russia sta combattendo contro l'intero sistema della Nato e in tutto questo è molto interessante che diverse agenzie di informazione hanno iniziato a spostare la loro linea narrativa da una narrazione degradante in cui la Russia veniva descritta come un aggressore verso una narrazione che ormai descrive la Russia come un paese che vuole la pace è una cosa incredibile io ad esempio metto in confronto le notizie che uscivano per l'agenzia Reuters ancora due anni fa e io vedo le notizie molto degradanti dove venivano sostenute le tesi secondo cui i russi hanno toccato l'Ucraina perché loro sono assettati di sangue e vogliono rubare i territori e così via anche se chiunque ha mai guardato la mappa della Russia può capire che è il paese che non ha problemi territoriali sono 150-170 milioni se aggiungiamo 20 milioni che vivono in Russia di persone provenienti dagli altri paesi sono circa 170 milioni 170 milioni che vivono su un territorio infinito in Russia ci sono le zone dove non vive nessuno dove quando noi si dice per un chilometro quadrato c'è un tot di esseri umani ad esempio in Italia in Russia ci sono dei chilometri quadrati dove non c'è nessuno zero umani sicuramente è un paese più ricco tra i più ricchi al mondo per quantità di risorse naturali e non ha problemi territoriali non ha bisogno di investire tutti questi soldi fare tutto quel casino per prendere e conquistare territorialmente Ucraina se fa la guerra per difendersi perché si sente minacciato perché quando la NATO ai confini della Russia fa esercitazioni militari imitando la guerra contro la Russia non è normale non farà piacere a nessuno se domani il Messico farà esercitazioni con la Cina sulla frontiera statunitense imitando la guerra contro gli Stati Uniti non penso che gli Stati Uniti si sentiranno a loro agio secondo me invaderanno il Messico e faranno la guerra la stessa cosa succederà se la Canada ad esempio farà un'alleanza con Nord Corea una cosa impossibile ma nella fantapolitica ipotizziamo una cosa del genere Canada fa alleanza con Corea del Nord e cominciano esercitazioni congiunte sulle frontiere della parte del Nord delle Stati Uniti d'America imitando la guerra contro le Stati Uniti d'America secondo voi gli americani si sentiranno tranquilli sereni a loro agio? secondo me no e perché i russi a loro devono sentirsi a loro agio con intero meccanismo bellico della Nato che tra l'altro ha già dimostrato più volte nella storia di essere un meccanismo criminale terroristico un meccanismo che uccide i civili milioni di civili massacrati in Iraq tutto quello che la Nato appoggia in Medio Oriente anche il recente genocidio del popolo palestinese da parte degli assassini sionisti di Israele appoggiati dalla Nato tutto quello che hanno fatto in Nord Africa tutto quello che hanno fatto in Africa su altri territori tutto quello che loro fanno nell'Indocina e in tutte le zone dell'area Pacifico e ovviamente si parla di una politica di violenza perché i russi devono sentirsi sicuri io mi domando perché non devono protestare contro questa seria minaccia militare e ovviamente adesso anche agenzia Reuters non so che cosa è successo io mi mi farebbe veramente piacere capire i meccanismi che stanno dietro a queste decisioni questa sicuramente è la verità nascosta che forse non scopriremo mai chi per decisione di chi vengono cambiati così radicalmente le le linee narrative di intere agenzie però comunque il dato di fatto è che ieri Reuters esce con un articolo io quando l'ho aperto ho detto no è una presa in giro è impossibile impossibile che Reuters ha scritto e ha pubblicato questo articolo però sì è vero io poi ho pubblicato questa notizia anche sul mio canale privato Telegram poi è una notizia abbastanza disponibile potete andare su sito Reuters e trovare quello che loro divulgano in queste notizie in pratica si parla del fatto che il presidente russo Vladimir Putin ha proposto di congelare il conflitto in Ucraina lungo l'attuale linea di contatto cioè Putin ha detto ragazzi noi non vogliamo fare la guerra vogliamo finire questa guerra vogliamo porre la fine alle ostilità non serve a nessuno avete visto che noi siamo capaci di difendersi avete capito che non dovete romperci le scatole avete capito che dobbiamo in qualche maniera fare trattative per ridurre la presenza della Nato ai nostri confini quindi fermiamo le ostilità smettiamo la guerra tracciamo il confine che passa adesso nella linea di scontro quindi ciò che rimane sotto il potere russo rimane la Russia ciò che rimane dietro all'Ucraina rimane dietro all'Ucraina però noi dobbiamo mettere a posto una serie di cose presenza della Nato il nazismo ucraino tutto questo dobbiamo risolvere insieme noi siamo pronti di finire la guerra siete pronti farlo anche voi e lavorare insieme per stabilizzare questa situazione l'Occidente ha detto di no in pratica gli Stati Uniti e la Gran Britannia secondo Reuters hanno scelto deliberatamente la guerra fino all'ultimo ucraino parole testuali Reuters ha scritto questa cosa dicendo perché la guerra ha permesso di disperdere la produzione di armi in Occidente creare nuove posti di lavoro per l'economia statunitense e quindi anche Gran Britannia ha nuove possibilità di aumentare la presenza militare all'Est e finalmente guadagnarsi una loro macrozona in sul territorio di Mar Nero perché loro sapete il problema di Gran Britannia è che essendo una volta una grande potenza colonialista aveva le macrozone ovunque nel mondo la flotta britannica minacciava tutti e loro in tutto il mondo dominavano i luoghi del dominio le zone del dominio soprattutto il dominio sulle tratte commerciali si chiamano macrozone nella geopolitica i britannici li hanno persi tutti colonialismo britannico ormai è crollato loro vorrebbero ricostruire almeno una loro macrozona e il loro sogno di farlo nel Mar Nero per questo loro vogliono la Crimea loro vorrebbero riprendere controllo sulla Crimea attraverso l'Ucraina se l'Ucraina riprenderebbe Crimea domani vedrete che Crimea sarebbe stata trasformata nel vero e proprio in una vera e propria enorme base militare britannica i britannici lì avrebbero creato veramente una potenza una roccaforte incredibile addirittura con le armi nucleari britanniche su quel territorio e così avrebbero controllato totalmente tutto il Mar Nero purtroppo per loro Crimea è controllata dai russi e con cavolo che loro la rideranno i britannici e i britannici comunque cercano di creare una loro macrozona utilizzando quello che c'è cercando di dominare quella parte del Mar Nero dove loro ancora riescono a fare qualcosa abilmente sfruttando la debolezza politica di Romania la totale assenza della politica in Ucraina perché in Ucraina non c'è la politica in Ucraina ci sono i fantocci che svolgono l'interesse degli oligarchi anglosassoni non si parla della politica qualsiasi politica deve basarsi comunque almeno su una base di principi di interesse nazionale in Ucraina si fa tutto contro l'interesse nazionale a partire dalla trasformazione dei cittadini alla carne da macello negli interessi degli anglosassoni quindi è chiaro che Reuters ci dimostra una visuale sulla situazione russo-ucraina molto diversa da quelle che ha mostrato fino ad ora adesso hanno pubblicato articolo nel quale testualmente hanno spiegato che Vladimir Putin e la Russia vogliono la pace e hanno proposto all'Occidente la pace e l'hanno fatto più di una volta l'hanno fatto durante gli accordi di Minsk sono stati traditi dall'Occidente presi in giro l'hanno fatto durante gli accordi in Turchia già mentre l'operazione militare speciale veniva svolta gli accordi in Turchia dovevano in qualche maniera stabilizzare i rapporti tra Russia e l'Occidente e congelare il conflitto in Ucraina il famoso accordo di grano doveva essere l'inizio di diciamo un primo passo i russi come la dimostrazione della loro buona volontà hanno permesso alle navi di viaggiare sul Mar Nero le navi con il grano ovviamente dando preferenza agli interessi delle compagnie private occidentali che hanno bisogno di grano per lucrare tutte queste balle che loro raccontavano che grano serve ai poveri africani che muovono di fame sono balle perché la gran parte del grano è andata è andata nelle compagnie occidentali per soddisfare l'interesse dei capitalisti di ultracapitalisti e di capitalisti delle multinazionali perché sono molto diversi dai capitalisti nazionali di vecchio stampo questi moderni sono molto peggio sono cattivissimi tra l'altro vedono come nemico i vecchi capitalisti capitalisti che comunque avevano un rapporto e rispetto verso la classe lavoratrice e verso l'idea di una nazione e di uno stato capitalisti di una volta avevano bisogno di esistenza di uno stato e contribuivano all'esistenza di esso capitalisti moderni vogliono distruggere lo stato vogliono distruggere la società vogliono distruggere le masse perché per loro le masse nella forma in cui esistono oggi non vanno bene per loro le masse devono essere semplicemente un insieme di forme biologiche che consumano ciò che loro danno e non fanno domande non fanno le loro leggi e non hanno alcun altro interesse al di fuori del consumo fine questa è la la politica delle multinazionali dell'ultracapitalismo e ovviamente i russi all'epoca hanno dimostrato a questa gentaglia comunque di essere pronti per un dialogo loro hanno sfruttato questo accordo di grano poi dopo hanno tradito di nuovo la russia hanno tradito di nuovo le gli accordi che sono stati fatti poi dopo a dubai voi ricordate che quelli di dubai gli arabi hanno fatto di tutto per di nuovo mettere allo stesso tavolo gli ucraini i russi quando si tratta di mettere allo stesso tavolo gli ucraini i russi si tratta sempre di mettere allo stesso tavolo i russi e gli occidentali perché gli ucraini non decidono niente sono gli occidentali che decidono per loro quindi quelli gli arabi di dubai hanno iniziato di nuovo queste trattative che sono fallite in turchia uno dei uno degli accordi importanti era anche scambio di prigionieri avete visto come è finito questo accordo gli ucraini deliberatamente hanno abbattuto un aereo russo a bordo 65 militari ucraini che dovevano essere scambiati con militari russi uccisi abbattuti con un sistema patriot statunitense dal territorio dell'Ucraina ormai è chiaro a tutti lo hanno anche confermato gli esperti statunitensi e lo hanno anche scritto in giornali occidentali anche statunitensi persino New York Times e Washington Post hanno scritto di questa cosa quindi è chiaro chi non vuole la pace i russi hanno detto sia la pace mettiamoci a dialogare cerchiamo di risolvere questa situazione però però non in chiave dove i russi sono sudditi e gli occidentali sono i padroni questo non succederà mai questo Putin lo ha spiegato già nel 2007 durante l'incontro a Monaco lui ha detto che la Russia vuole fare la propria costruire la propria politica estera in base a nuove regole non può essere usata la regola dove l'occidente è un sistema dominante e tutti gli altri sono i suoi sudditi i russi non vogliono essere sudditi di nessuno secondo me è una cosa normale una cosa comprensibile quando qualcuno entra a casa mia e comincia a trattarmi come se io fosse il suo schiavo questa cosa a me non piace io posso anche picchiare e fare del male a qualcuno perché deve essere accettabile per i russi questa cosa io penso che chiunque ha un minimo di dignità e vuole vivere libero non eccetterà mai quelle che sono le condizioni dettate dall'occidente comunque è una cosa molto importante cari amici che adesso di questa cosa si parla apertamente nella stampa occidentale persino la Reuters ha spiegato nel suo recente articolo che russi vogliono pace mentre gli occidentali fanno di tutto per fare la guerra è una cosa a mio avviso dimostrativa una cosa che è un fenomeno che sta annunciando il grande cambiamento che sta accadendo nel grande paese occidentale negli Stati Uniti d'America probabilmente in prima della prima dell'ascesa di Trump probabilmente lui diventerà presidente degli Stati Uniti se non lo faranno fuori se non lo uccideranno se non faranno qualcosa di straordinario che esce fuori dagli schemi legittimi lui dovrebbe diventare presidente degli Stati Uniti e quando lui diventerà presidente degli Stati Uniti come avete già capito cambieranno molte cose cambieranno molte cose sia nella gestione della Nato sia nella politica della Nato nella politica dell'Occidente in generale nell'economia e così via e ovviamente in in vista di questo cambiamento iniziano già leggermente a trasformare e deviare le loro linee narrative spostandoli verso la realtà oggettiva per fortuna comunque è una notizia importante vi invito di approfondire se volete approfondire anche altre notizie che vengono censurate non vengono raccontate sul mainstream italiano che purtroppo rimane peggiore nell'area del del mainstream occidentale noi in Italia siamo messi peggio basta vedere cosa hanno scatenato su Sanremo queste vergognose prese di posizioni giustificazioni dei giornalisti chiamarle giornalisti io di recente ho scritto una story su Instagram dove io ho detto che i giornalisti della Rai hanno dimostrato per l'ennesima volta che il giornalismo è una forma di prostituzione questa è una cosa veramente tremenda non si può vedere quando un artista parla di immigrati oppure parla di genocidio a Gaza giustamente condividendo le posizioni che sono più che condivisibili deve subito trovarsi sotto attacco di questi giornalisti che sono delle mignotte ideologiche cari amici qua la parola mignotta non è una parola come dire malvagia perché deriva come sapete benissimo da parola madre ignota che risale alla storia della Roma e quindi io li chiamo mignotte questi giornalisti sono mignotte nella loro nel loro comportamento nel loro modo di fare nel loro modo di condividere le quelli che sono le loro posizioni è veramente degradante guardare queste cose quindi in Italia noi siamo messi male ancora più male di altri paesi occidentali da questo punto di vista e io proprio per questo vi invito di abbonarvi al mio canale privato telegram di seguire le mie notizie che condivido lì perché io cerco di riportare tutto quello che al nostro pubblico viene negato che viene censurato che non viene raccontato non viene approfondito quindi abbonatevi il link per abbonamento lo troverete nella descrizione a questo video se volete sostenermi qua su YouTube vi invito di iscrivervi al mio canale commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici inoltre vi ricordo come sempre che qua alle mie spalle c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio lo troverete in tutte le librerie d'Italia in questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina se vi interessa questo argomento leggetelo e fatemi sapere cosa ne pensate amici vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene grazie a tutti i miei video grazie a tutti i miei video grazie a tutti i miei video